Musica 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 Buongiorno e bentrovati a mattino 6 Oggi venerdì 13 maggio si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima in Portogallo nel 1917 A tre pastorelli Lucia di Gesù, Francesco e Giacinta apparve per sei volte la Madonna che lasciò loro un messaggio per tutta l'umanità Il Vescovo di Leiria nella sua lettera pastorale a chiusura del cinquantenario ha affermato che il messaggio di Fatima racchiude un contenuto dottrinale tanto vasto Da poter certamente affermare che non gli sfugge alcuno dei temi fondamentali della nostra fede cristiana Secondo il racconto dei tre pastorelli le apparizioni continuarono per un po' di tempo Accompagnate da rivelazioni di eventi futuri La fine imminente della prima guerra mondiale Il pericolo di una seconda guerra ancora più devastante Se gli uomini non si fossero convertiti La minaccia comunista proveniente dalla Russia Debellabile solo mediante la consacrazione della nazione stessa al cuore immacolato di Maria Per opera del Papa e di tutti i Vescovi rioniti Nel 1930 la Chiesa Cattolica proclamò il carattere soprannaturale delle apparizioni e ne autorizzò il culto A Fatima è stato edificato un santuario visitato per la prima volta da Papa Paolo VI il 13 maggio 1967 E in seguito anche da Papa Giovanni Paolo II Pontefice molto legato agli avvenimenti del luogo dove si recò più di una volta in pellegrinaggio Secondo la dottrina cattolica queste apparizioni appartengono alla categoria delle rivelazioni private Il messaggio di Fatima può essere riassunto principalmente come un invito alla penitenza e alla preghiera Nelle apparizioni del 1915 l'angelo avrebbe mostrato ai bambini con quale costrizione si dovesse pregare Spiegando loro la grande importanza nel compiere sacrifici In riparazione delle offese commesse contro Dio E nella sua ultima apparizione avrebbe mostrato il modo consono di ricevere il sacramento dell'Eucarestia Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa Lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo Con le prime pagine dei quotidiani vediamo il messaggero in apertura Il caso giustizia scuote Movimento 5 Stelle Indagato anche il sindaco di Parma Pizzarotti, abuso d'ufficio per nomine al Regio 5 Stelle avviso con Manganelli, il premier, la sinistra sbagliò A strumentalizzarli E in centropagina la svolta via commissione di studio Curia tra paura e contrapposizioni Il Papa apre alle donne di Acono Potranno sposare e battezzare E poi Renzi ho giurato sulla Costituzione Non sul Vangelo, unioni civili, divisioni tra i cattolici Ma il centrodestra, ora il referendum E ancora in breve, inchieste politica, le garanzie e le forzature del sistema La parabola dalla Ghigliottina a Montesquieu E poi comunali licenziati, Roma, tangenti anche sui morti Ultima vergogna I costi della riforma per la reversibilità Spesa di 124 milioni Non è femminismo ma la volontà di ritrovare la dignità delle origini Ancora scontri a San Giovanni Guerriglia a Roma 15 condanne Ma ora si indaga sugli agenti Ed ora la prima pagina Vediamo dedicata La prima pagina, scusate, invece La Repubblica Vediamo donne svolte nella chiesa Il Papa apre al diaconato Potrebbero celebrare nozze appunto e battesimi E poi unioni civili, Renzi, le leggi si rispettano In centropagina la fotonotizia Il Canada brucia Un messaggio al mondo Il clima impazzito colpisce Le nostre foreste In breve in basso Vediamo lo scontro sulla banda larga E Telecom sfida l'Enel Venderemo energia E poi chiusa la via balcanica I siriani verso la Sicilia Passiamo al Corriere della Sera In apertura la fotonotizia con Papa Francesco Appunto e poi Renzi Difende le unioni civili L'Ips sulla reversibilità Costi sostenibili Parma ha indagato il sindaco del Movimento 5 Stelle Il Premier per quanto riguarda il governo Ha dichiarato, ha giurato sulla Costituzione Non sul Vangelo La CEI frena sul referendum Mossa a sorpresa di Francesco Appunto come così riportato dalla fotonotizia Le donne diacono Quindi sulla chiesa il Papa Per il rinnovamento E nel taglio basso Vediamo genitori contro prof La scuola che fa male Poi ancora in breve l'inchiesta I terroristi già scagionati Cina poi è mercati Stop dell'Europa Passiamo al tempo Ora il Papa apre anche alle donne diacono Il Pontefice appunto accoglie la richiesta delle suore E incarica una commissione in Vaticano Scontri a San Giovanni Il PM chiede 115 anni di galera per i bravi ragazzi rossi Ma il giudice riduce a 61 E chiede di indagare Sull'operato degli agenti picchiati Risarcimento ridicoli a forze dell'ordine E comune per lo sfregio del 2011 A Roma La peggio gioventù Ecco lo scontro riportato appunto nella foto E poi l'attacco dei movimenti per la casa Respinto dalla polizia con potenti getti d'acqua E viva l'idrante In Campidoglio spazzati via i teppisti E le unioni civili appunto Ancora interviene Renzi Non ho giurato sul Vangelo Nel taglio basso invece in breve Guai a 5 Stelle Indagato pure Pizzarotti E striscia la notizia Perde la battaglia sul finto Rom Cronista risarcito e lo studio sulle proteste Se la puzza fa litigare i condomini Il mattino Donne diacono il Papa apre Una possibilità per il presente Potrebbero celebrare nozzi e battesimi Un'altra inchiesta colpisce i 5 Stelle Abuso d'ufficio Indagato appunto Pizzarotti E sulle unioni civili Renzi Ho giurato sulla Costituzione Non sul Vangelo E le indagini Nicolangelo il Tritolo Porta a Scampia E poi il personaggio Vediamo qui nella foto All'ergastolo L'ex attore di Gomorra In basso Bari Il presunto iadista E il mitra giocattolo Caro Napoli Vendi tutti Ma non Iguain In Europa Vediamo i gol Hanno regalato più punti di tutti E si parla di sport Avvenire poi il fatto Appunto il Papa Le donne più responsabilità Commissione di studio Sul diaconato femminile E mense dei poveri Adesso le file Non crescono più E l'unione civili Apertura alle adozioni L'incognita Che pesa Il fatto quotidiano Sala è un candidato abusivo Impresentabile Dopo le dimissioni Ha continuato a fare Il commissario Expo Ottobre I dubbi di Chiamparino e Compani PD Una strana voglia Di passare con il no E poi la riforma Boschi Toglie parola e diritti Ai cittadini Il libro Costituzione E il nuovo senato In tribunale L'oggia Berlinger E non Renzi L'unità punisce il suo cronista L'azienda prosegue Persegue Scusate Il giornalista Massimo Franchi Per un tweet Ed ora Libero La rivoluzione di Francesco In apertura Arrivano le donne prete Il papà Apre alle Diacono femmine Potranno dire messa Celebrare matrimoni e funerali E battezzare Un ruolo che la Chiesa Ha sempre riservato Agli uomini La scelta dettata anche Dalla crisi Delle vocazioni E la vignetta Poi Movimento 5 Stelle Al Bivio Indagato pure Pizzarotti Le forche grilline Alla prova Della realtà La battaglia Del referendum Centrodestra Schizofrenico Vota contro le sue riforme Poi Ma i patti Sono stati Travolti Stravolti E il no Farà cadere Renzi Il manifesto Stato di golpe Vediamo La fotonotizia Il senato brasiliano Dice sì All'impeachment E sospende Dall'incarico Rousseff La presidente Grida Il colpo istituzionale Invita la piazza Alla mobilitazione Per la democrazia Tensione e proteste In tutto il paese Uomo Delle Multinazionali Accusato Di corruzione E poi Vediamo in basso Il premio Ferrari Splendida E terribile La nostra prima Più difficile Sviducia Respinta Pelo E travel Ma la protesta Non si ferma In Francia Ed ora Passiamo Al Messaggero Abbiamo visto L'apertura Vediamo Sempre in Primo piano Quindi Il fatto Pirazzotti Indagato Per abuso D'ufficio Gelo Movimento 5 Stelle Vada via Se ha fatto Errori A Parma Il sindaco Coinvolto Nell'inchiesta Sulle nomine Al teatro Renzi L'avviso Non è condanna Un tempo La sinistra Strumentalizzava E poi ancora L'intervista Lui e Nogarin Non devono dimettersi Ora rivedere Questa tipologia Di reato Parla il capogruppo PD Alla Camera E dal giustizialismo Alle garanzie La parabola Dei fedeli Di Beppe Sembra passato Un secolo Dai Vaffadei E dall'agonia Oggi si fanno I conti con i PM Il paradosso È quello Di dover difendere Il primo cittadino Considerato Traditore E poi Vediamo ancora Il confronto Prescrizione Ipotesi Fiducia Ed è tregua Governo Toghe Legnini Sulla vicenda Morosini Abbiamo chiarito L'esecutivo Organi istituzionali Al riparo Dalle polemiche Unioni civili Renzi Giuro sulla carta E non sul Vangelo Verso il referendum Il premier difende La riforma La fiducia Ci giocavamo La faccia Il centrodestra Punta al quesito Cattolici divisi I vescovi Non è utile E poi Vediamo Le cifre Per la reversibilità Spesa crescente Nel 2050 Arriverà a quota 124 milioni Ancora in primo piano Il PD recupera Tra gli scontenti La legge intacca All'astenzionismo Per i sondaggi Il DDL Cirinna Condiviso Da un'ampia maggioranza Degli italiani Comunali Possibili ripensamenti Tra chi non vota Movimento 5 Stelle Potrebbe arretrare Invariato il saldo Per il centrodestra Il voto contrario Dei partiti Rispecchia L'orientamento Di quell'area Ed ancora Vediamo Donne nella chiesa L'apertura del Papa Il caso Diaconato subito E ruoli decisionali Nuova svolta storica Di Bergoglio Al via Una commissione di studio Le religiose Potranno anche Battezzare E sposare E l'intervista Vediamo Alla teologa Fiducia in Francesco Ma non esulto I vescovi Sono andati in tilt Per meno Tre anni fa Problemi per il Lettorato Diaconese Già nella chiesa Antica Spero che i cardinali Conoscono L'argomento Appunto E poi Il retroscena Curia tra paure Divisioni Così si diventa Protestanti Dal concilio ad oggi L'ala conservatrice Ha sempre fatto affossare Ogni proposta C'è chi vive la rivoluzione Prospettata Dal pontefice Come un potenziale Pericolo E tra i favorevoli C'è il cardinale Casper Molte donne nelle missioni Per carenza di preti Svolgono già funzioni simili Ha dichiarato E la Roma Di Mussolini Vediamo sempre In primo piano Una visione Insuperata Lo storico Dell'arte Interviene Dopo le polemiche Sul duce Urbanista Ed è Claudio Strinati La missione di Piacentini Fu quella di ricostruire Lo spirito Della cultura Italiana E Giacchetti Il governo gioca La carta dello sblocca Roma Ancora il caso Il candidato PD Un miliardo per opere private Il 24 Lo presento Con De Vincenti Marchini Esecutivo Fa campagna elettorale Meloni Meloni va all'attacco Così Sono capaci tutti E davanti al Campidoglio Pomeriggio di scontri Antagonisti in piazza Cariche della polizia Con gli idranti Ieri a Roma Per sgomberare Piazza del Campidoglio Durante una manifestazione Del movimento per la casa Gli attivisti Avevano assediato La piazza Con scatole di cartone E fumogeni I primi momenti di tensione Quando gli agenti Hanno respinto Un tentativo Dei manifestanti Di salire Sulla scalinata Del palazzo Senatorio E il Leader radicale Vediamo Nelle pagine Appunto nazionali Teramo Pannella Cittadino Onorario Il suo nome La sua presenza È tornata Ad Aleggiare A distanza Di oltre 25 anni Nella sala Del consiglio comunale Di Teramo Marco Pannella Ricordovi Fu protagonista Da consigliere comunale Ai primi anni 90 Quale ispiratore Di una lista civica Ci è tornato Simbolicamente Ieri Per ricevere La cittadinanza Appunto Onoraria E noi Ci fermiamo Subito Su questo Articolo Per vedere Appunto Il contributo Video Ogni tanto La voce Si interrompeva Dalla commozione E una delle cose Che mi disse Mi disse Quanti ne siamo A Teramo Mi fece notare Che lui diceva Quanti ne siamo Quanti ne siete Quanti ne siamo A Teramo E lui disse Guarda Ma mi faremo Circa 56 mila Un po' più Un po' meno E lui mi disse Bene Abbracciami tutti I nevrono cittadini La cittadinanza Onoraria Marco Pannella Pertanto Trova in sintesi Le seguenti motivazioni Un politico Che ha saputo Colugare Le battaglie Per i diritti Da affermare Nel paese Con quella Per difendere La sua città Per i quali Stato talvolta Anche protagonista E favore Per l'affetto Che ha costolito Verso Terra Sempre locata E evidenziando Le qualità Di territorio E cittadino Per l'esempio Di disinteressata E lungimirante Passione civile Per la carica Innovativa Della sua visione Politica Per la realtà E l'onestà Con cui ha sempre Condotto la sua azione Con queste ragioni E orgogliosi Di compiere Tale anno La città E il consiglio comunale In segno Di affettuosa Gratadumine Di tenere orgoglio E di istintiva Stima Portano a nostri gusti Con cittadino Le chiavi Della città E sono fiero Di assegnare A Marco Pannella La più alta Conorificenza Civile Secondo saputo di questa Cittadinanza Come ha accolto Questa notizia E' contento Per l'omaggio Che gli dà Teramo E' un riconoscimento A cui tiene molto Ma lui Tiene soprattutto Alla sua Eredità politica Che non vada perduta E che si porti avanti Anche a Teramo Il partito radicale Viva il partito radicale Viva Marco Pannella Che non muoia mai Marco Pannella E soprattutto Non muoiano mai Le sue idee Marco Pannella Ieri assente a Teramo Per problemi di salute Ma ha potuto assistere A questa consegna simbolica Grazie alla diretta web Di Radio Radicale Andiamo avanti Vediamo Sempre sul messaggero Il personaggio Fassina Oggi il TAR decide Sulle liste Dem Centrodestra Col fiato Sospeso Il candidato della sinistra Spera di essere Riammesso alla corsa Ma il mio impegno Per la città Resta Ha dichiarato Ed ora La cronaca Gli scontri Vediamo a Roma 15 condanne Ma ora si indaga Sugli agenti Pene fino a 9 anni Per la guerriglia Scatenata dagli indignatos A San Giovanni Rinviati gli atti Alla procura Per verificare La condotta Dei pubblici ufficiali Negli incidenti Vediamo nella foto L'assalto Al blindato Durante gli scontri Appunto del 2011 Che appunto Hanno anche lanciato bombe Contro i carabinieri E poi Turchia Lo visitò la Merkel Scandalo Pedofilia Nel centro Migranti L'ordinanza Bari Cade l'accusa Per gli arrestati Trafficanti di uomini Non gli adisti Scarcerato A Kim Nasiri Gli indizi Sono insussistenti Ed ora Sempre tra le cronache La riforma Senato Sì al decreto scuola 500 euro Ai ragazzi stranieri Approvato il provvedimento Che estende Il bonus culturale Già previsto Per gli italiani Alle paritarie 1000 euro Per ogni alunno Disabile Puglisi del PD Servono al sostegno Ed in breve Vediamo Arrestate a Bari Filmate botte E servizie Di due maestre D'asilo E con questa Notizia Ci fermiamo Per il consueto Appuntamento Con le previsioni Meteo E quindi con Giovanni De Palma Di Abruzzo Meteo Giovanni buongiorno Buongiorno Elisa Buongiorno a te E a tutti i telespettatori Allora Giovanni Quali aggiornamenti Per oggi E magari Qualche accenno Appunto Su questo weekend Prossimo Allora sì La nostra Penisola continua Ad essere interessata Coinvolta Da una vasta Circolazione Depressionaria In azione Sull'Europa centrale Che favorisce L'arrivo di Massi d'aria Più fresca Rispetto ai giorni scorsi Di origine atlantica Che ha favorito Anche una Generale Diminuzione Delle temperature Diminuzione Che si è avvertita Maggiormente Sul settore Occidentale Della nostra regione Dove oggi Il tempo Sarà caratterizzato Da nuvolamenti Diffusi Quindi Nubi Più compatte Sulla Marsiga Nell'Aquilano E sulle zone montuose Con possibili rovesci Localmente Anche a carattere Temporalesco Più probabili Tra la tarda mattinata E il tardo pomeriggio Non ci saranno Particolari problemi Invece Sul settore orientale Della nostra regione Quindi sulle zone collinari Lungo la fascia corsiera Dove Splenderà il sole O tutt'al più Ci sarà Qualche annuvolamento Nel corso Della giornata Ma insomma La caratteristica principale Della meteorologica Della giornata odierna Sarà il vento Previsto In rinforzo Già in rinforzo In queste ultime ore Ma nelle prossime ore Si prevedono Forti raffiche Sulle zone montuose E nelle principali valli Che si affacciano Sul versante triatico Tornerà a soffiare Il garbino Che non sarà Particolarmente caldo Però Le raffiche potrebbero essere Particolarmente intense Soprattutto sulle zone montuose Localmente Nelle principali valli Che si affacciano Sul versante orientale Questo tipo di tempo Non cambierà Nemmeno nella prima parte Della giornata di sabato La situazione resterà tale Quindi avremo Un tempo più chiuso Sul settore occidentale Con annuvolamenti Più frequenti Sulla Marsica Nell'Aquilano Localmente associata A delle precipitazioni Cielo più caratterizzato Da schiarite Con occasionale annuvolamenti Sul versante orientale Della nostra regione Almeno fino Alla prima parte Della giornata di sabato Poi dal pomeriggio Inizierà a cambiare Un po' la situazione Perché i venti Inizieranno ad attenuarsi E giungeranno Masse d'aria Fresca In quota E ciò Darà luogo A un graduale Peggioramento del tempo Peggioramento Che invece si manifesterà Nella giornata Di domenica A partire dalla Tarda mattinata E soprattutto Nella seconda parte Della giornata Con annuvolamenti Diffusi Su gran parte Del territorio regionale Con dei rovesci Localmente Anche dei temporali Che stavolta Però interesseranno Anche il versante orientale E anche la fascia costiera Con temperature In generale Diminuzione Elisa Grazie Giovanni Buona giornata E buon lavoro a te Grazie Elisa Una buona giornata Anche a te E a tutti I telespettatori Di TV6 E come sempre Ricordo Che oltre al sito Internet Abruzzo Meteo Potete Interagire Direttamente Con Giovanni De Palma Attraverso il profilo Facebook Di Abruzzo Meteo Oppure il profilo Facebook personale Di Giovanni De Palma Potete così Postare commenti Porre domande E quindi Essere sempre Aggiornati In tempo reale Sulle condizioni Meteorologiche Ed ora ci fermiamo Per una piccolissima Pausa pubblicitaria Tra poco Sono da parte Di mattino 6 Passiamo Alle notizie Regionali Dal centro Con le prime Quattro pagine Iniziamo con La prima pagina Dedicata alla provincia Di Pescara Processate Sospiri E Mazzocca Soget I PM Chiedono il rinvio A giudizio Dei due politici Per debiti Non saldati In centro pagina Il fuoriclasse Di Fulvio Prenota Le Olimpiadi Di Rio Palla nuoto Il pescarese Svetta In nazionale E nelle cronache Pini abbattuti Ecco il luminare Degli agronomi Luciani attacca Ancora il presidente Acca Si dimette Si dimetta E poi in penne Gli operatori Dei rifiuti Senza stipendio Imparato rimane In silenzio In basso In chiesta Agenzia Entrate E funzionario Arrestato Non parla Ed ora La prima pagina Dedicata Vediamo Alla provincia Di Chieti Lanciano E Vasto Vediamo In apertura Sindaco Rapinata Con l'anestetico A Torrebruna I banditi Fanno irruzione In casa Di Cristina Lella In centropagina Il sottosegretario Acchieti Dorina Bianchi Diventa sponsor Di teatro E golf club Sotto Stangata I ladri Di banco Matt Acchieti Giudice Dice no A due anni E otto mesi Di carcere E poco Nelle cronache Iomentiacchieti Asilinido Menza E scuola Bus solo per ricchi In Lanciano Pupillo Valente C'è il patto Per vincere Ad Ortona Ortona Perde la bandiera Blu E la spiaggia Ed ora La prima pagina Dedicata Alla Provincia Di Teramo Vediamo In Apertura Come apre Eccoci In prima pagina In tasca I soldi Dell'Asil 20 mesi Impiegato Dell'azienda Sanitaria Patteggia La pena Per Peculato In centropagina Si è rotta Un braccio Donna investita Sulle strisce Ennesimo caso In città E poi sotto Vivarini Addio Al Teramo La decisione Dopo l'incontro Con Campitelli Pagliari Tra i papabili Nelle cronache Banca Teramo Stipendi ridotti E orario Uguale Poi ancora Brucchi Prende tutte le deleghe Dei dimissionari In Giulianova La coppagora E senza soldi Si allo sciopero Ultima pagina Quella dedicata A La provincia Di L'Aquila Vediamo In Apertura Eccoci L'Aquila Avezzano E Sulmona Vediamo La prima pagina Del centro In apertura La casa Studente Vanno in carcere I tre condannati A titolo definitivo Ora Il risarcimento Da 10 milioni E in centropagina Oggi la tappa Parte da Sulmona Roccaraso Impazzisce Per il giro Vittoria Di Wellens In basso Call center 234 licenziati All'Aquila Salta la commessa E Globe Network Vuole chiudere Tra le crona Che invece In Avezzano Tanta operai Occupano La Vesuvius Ancora Il Blitz Vediamo Un caseificio Abusivo In alto sangro In L'Aquila Ancora Due denunce Maiali morti E liquami Nell'Aterno Ed ora Torniamo Passiamo Scusate Al Quotidiano Della provincia Di Teramo La città Vediamo Come apre Oggi Eccoci Nella prima pagina E la Notizia Appunto Sul La consegna Della cittadinanza onoraria Marco Pannella Teramano Eccellente Lo storico leader Lo storico leader Radicale Insignito Della cittadinanza onoraria Il sindaco Gli consegna Le chiavi Della città E prosegue Intanto Il gioco Del cerino In maggioranza Le chiavi Della città Qui nella foto E D'ancora Tramonta il sole Sui caraibi Giuliesi E polemica Sulla chiusura Della storica Pizzeria E Addio Vivarini Mister Panchina Doro Lascia Il teramo Calcio E poi Roseto Degli Abruzzi Scuole Nel mirino Di ladri E Bandali Vediamo All'interno La pagina Dedicata alla regione Pescara ha chiesto il giudizio per mazzocca e sospiri Assieme ad altri due Sono accusati di abuso d'ufficio nell'inchiesta pescarese sui crediti inesigibili della Soget Ok Dalla commissione Primo passo verso l'abolizione del doppio vitalizio e poi ancora in basso cronaca cavalli lasciati allo Stato Brado nel parco multe e denunce per un gruppo di allevatori aquilani Ed ancora vediamo L'istituto zoo profilattico sbloccati gli incentivi al personale non dirigente l'annuncio del direttore generale Mattioli ed ancora la crisi in comune vediamo verifica infinita il cerino acceso continua a passare di mano nuovo centrodestra pronti ad ulteriori richieste da parte del sindaco anche alle eventuali dimissioni non a ricevere delle deleghe. Al passo dei gattiani ed ecco nella foto i sopravvissuti alla giunta Brucchi Bis estate dall'estato appunto 2014 Vediamo su questo articolo prima di andare avanti il contributo video appunto ieri durante il consiglio comunale scontro tra l'opposizione e il sindaco che appunto ha dichiarato che continuerà Quindi non si dimetterà però ha deciso di fare comunque ancora un tavolo tecnico. Vediamo il servizio A Teramo le dimissioni del gruppo di futuro IN scatenano gli avversari politici. Questo pomeriggio infatti la seduta del consiglio comunale si è trasformata in un confronto acceso anche se per pochi minuti tra il primo cittadino e il partito democratico che dopo pochissimo ha abbandonato l'aula. Se viene opportuno oggi aprire una discussione del consiglio comunale su una situazione di una gravità enorme con una giunta spaccata, dimezzata, da parte della giunta vuoto senza assessore, una maggioranza avviannata Ritiene opportuno oggi aprire questa discussione o no? Perché altrimenti se lei ritiene non ritiene di aprire una discussione sull'unico tema su cui dobbiamo discutere in questa città, sulla città che affonde, su questo veatrino che voi vi state sentendo di ritiene in questo tavolo politico che non si capisce cosa sarà la città E' un senso che lei ritiene di apportuno Allora, se lei ritiene di apportuno noi per poterci attravereremo l'aula e non parteciperemo Le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del primo cittadino e il ritorno immediato al voto Non ci presteremo più a questo teatrino che ormai è diventato questo consiglio comunale di una giunta che non ha rispetto del consiglio comunale, che non ha rispetto della città, che non ha il rispetto dei cittadini E guarderemo con grande attenzione anche a coloro che in queste settimane hanno cercato di smarcarsi da questa giunta Perché ora se decidono di rientrare per loro è finita, perché hanno adesso l'occasione chiave per poter chiudere questa esperienza fallimentare per la città E' una città distrutta, una città con piccoli feudi, una città con voti clientelari che porterà alla distruzione totale se non si cambia subito passo E noi abbiamo detto che il sindaco si dimetta immediatamente e dia mandato e dia la possibilità a un'altra forza politica come il Movimento 5 Stelle di cambiare veramente e dare una svolta a questa città L'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino Martina, promotore di Teramo soprattutto, sottolinea nuovamente il ruolo del suo gruppo Che nell'ultima seduta consigliere ha dato l'ultimatum a Brucchi dopo l'uscita dalla maggioranza di Al Centro per Teramo Nel porre al centro del confronto questioni che esulano dalla semplice occupazione di un posto in giunta Un'azione di questo tipo in questo momento forse da un lato complichi l'evoluzione del tavolo E dall'altro laddove il sindaco secondo me abbia ben deciso di iniziare a fare il sindaco forse lo faciliti Anche questa volta il sindaco Maurizio Brucchi ha scelto la via del silenzio ma nonostante questo in apertura del question time Ha fatto capire bene che continuerà ad amministrare la città Ho ripetuto molto questa mattina su quello che c'era da fare E' in corso il tavolo politico che ha il compito di affrontare e di cercare di risolvere questa situazione E quindi ho ricevuto gli assessori dell'applicazione delle altre forze politiche Che mi hanno dato una loro disponibilità a secondare questo posto e persone iniscente E io ritengo che in questa città bisogna di essere amministrati E quindi almeno nell'emore che si definisce il quadro politico Il nuovo assetto politico E quindi diciamo deciso di continuare nell'attività amministrativa Andiamo avanti Aperta l'inchiesta sulla fuga di gas all'acqua viva La procura ipotizza il disastro colposo anche se non ci sono indagati E non c'è stato danno alle persone E poi l'incidente Teramo Vivi città chiede giustizia per il cane pastore investito La brutta storia di Laica La cucciolona di pastore tedesco uccisa a mercoledì pomeriggio da un'autovettura Che l'ha investita a Villa Pavone È trascinata per un chilometro e mezzo fino alla Gammarana Un incidente che ha scosso le coscienze civiche ed animaliste cittadine A chiedere giustizia per il cane investito Marcello Olivieri di Teramo Vivi città convinto animalista Appunto l'associazione comunica che nei prossimi giorni Sporgerà querela nei confronti di chi era alla guida dell'auto Andiamo avanti Un'altra signora investita sulle strisce pedonali Sempre a Teramo utilitaria con due imprenditori A bordo travolge una 55enne di fronte al parcheggio San Gabriele Teramo teatro romano Paolo Tancredi interroga il ministro Dario Franceschini L'onorevole del nuovo centrodestra Da seguito l'appello sui finanziamenti lanciati dal sindaco Brucchi Ed ancora il duplice infanticidio Martinsicuro Samira sceglie il silenzio come difesa La 24enne non testimonia parla alla psichiatria di parte Incapace di intendere durante il delitto Tortoreto il sindaco Ricchi convoca i consiglieri di maggioranza Per un incontro decisivo E poi il caso sempre a Tortoreto Carabinieri in Comune per il presunto conflitto di interessi Acquisita la delibera di giunta sul contributo votata anche dall'ex assessore Fratello del Presidente della Misericordia Tramonta il sole sui Caraibi di Giulianova Chiude la storica pizzeria di Ignazio Simbolo dell'abbandono della città La buona notizia vediamo sempre a Giulianova Studente disabile giuliese in gita grazie all'unità Alsi e Grimi sotto attacco Anche Fipe e Confcommercio contro l'assessore Dopo il blitz la delibera di bilancio compare sull'albo pretorio I ciafardoni e Antelli tornano in Comune E ottengono i documenti richiesti A Roseto scuole rosetane nel mirino dei ladri In via d'annunzio portati via computer del laboratorio di informatica Ed ancora la delibera di giunta Anche a Roseto saranno celebrati i matrimoni in spiaggia Pavone incontra poste italiane per migliorare i servizi nelle frazioni E ancora bandiera blu Borgatti scaggiona La giunta a Pavone Per l'ambientalista la responsabilità sono da ricercare In decenni di mala gestione Cultura Vediamo Dall'India Il Gran Sasso sembra una collina Giorgio Serafino lo scrittore Che già che gira il mondo in Vespa È un oriente a sé Che mi ha dato paura Ha dichiarato rabbia e tristezza E vediamo attorno a un fuoco di foglie di pandano Sperduto nel Pacifico Ma forse proprio per questo l'arcipelago di Palau Conserva tutta la sua bellezza Per sapere di più appunto l'articolo sulla pagina dedicata alla cultura Torniamo ora al messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo Vediamo in apertura le notizie appunto del messaggero In apertura Ecco la prima pagina Il taglio ai vitalizi Prima svolta Commissione bilancio Approvato all'unanimità Il divieto di cumulo Per chi ha doppia indennità Conti alla mano Sarebbe un risparmio di mezzo milione Da cerbo a pace Ecco chi ci rimette Ateneo Ateramo Un sessuologo A disposizione degli studenti Trattativa aperta Chieti Nuova Carichieti Si sfilano tutte le poppa Bari In corsa La presentazione delle offerte non vincolanti La banca di Iacobini resta insieme ai fondi esteri E poi il ciclismo Oggi si riparte da Sulmona Wellens vince a Roccaraso sotto la pioggia Entriamo all'interno Vediamo L'Aquila Col center oltre 200 in bilico per HG3 L'Aquila la commessa del gestore di telefonia Scade a giugno Annunciato il disimpegno ieri ai sindacati Nella sede Appunto l'azienda dichiara problemi di natura fiscale Con l'agenzia delle entrate Già da mesi è in vigore il contratto di solidarietà E il caso vediamo Gran Sasso Institute Blundo rincara Pezzo pane Smorza La novità Gestire troppi debiti Ecco la task force È la prima d'Italia I commercialisti di Pescara Chieti e Lanciano Avezzano Si consorziano E ricevono l'ok dal ministero Pagina dedicata a Pescara Soget chiesto il processo per mazzocca e sospiri Accuse ridimensionate per i due politici Sono caduti reati di truffa e corruzione Coinvolti Il direttore generale Monaco e Ludovico Funzionario della società E lo scontro sul verde Pini tagliati Lezione con il super esperto Nel taglio basso La protesta Si tinde gli studenti in piazza Contro i test invalsi Su questo articolo ci fermiamo Per vedere il contributo video di Paolo Renzetti Oggi c'è questa raccolta di firme Questo banchetto in piazza Salotto a Pescara Boigottiamo i test invalsi Perché? La lotta contro l'invalsi è parte di questa lotta Per affermare questo tipo di scuola Una scuola che non sia discriminante E una scuola che sia unificante Che non divida i buoni dai cattivi Ma che lotti e che si spenda Quindi nell'insieme Affinché sia una scuola nell'insieme di qualità Perché non può esserci una scuola buona E una scuola cattiva Deve esserci una scuola buona E una scuola che deve diventare buona E quindi noi oggi siamo in piazza Per protestare contro i quiz invalsi Ma per protestare contro la logica Di dividere le scuole tra buone e cattive Noi riteniamo che i quiz invalsi Li chiamiamo quiz o indovinelli Perché non hanno nessuna base didattica Sono molto arbitrari Presumono di essere uguali Quando le classi sono differenti I programmi sono differenti E quindi riteniamo che debbano essere Non solo boicottati Perciò siamo oggi come insegnanti Ma corpo docente in piazza A scioperare Oggi noi studenti siamo in piazza Assieme agli studenti di tutta Italia Per boicottare i test invalsi Li boicotteremo sia all'interno delle scuole Lasciando il test in bianco Che in questa manifestazione Proveremo a trovare delle alternative A questo modello di didattica valutazione Che non riteniamo più adatto Perché siamo stanchi di essere classificati E messi in competizione Da una valutazione numerica Riteniamo che serve una valutazione narrativa E come questo riteniamo non più adatto Anche l'attuale modello di didattica frontale Inoltre siamo qui in piazza Anche contro l'atteggiamento repressivo Di molti dirigenti scolastici In primis quello del Misticoni Bellisario Dove sono stati sospesi oltre 150 studenti E anche al Volta Dove sono stati minacciati di ritorsione Gli studenti che avrebbero boicottati i test invalsi Siamo qui anche per sostenere i referendum sociali Contro le tre principali riforme antidemocratiche Del governo Ranzi Andiamo ancora avanti Vediamo È stato imparato a contattarmi Mazzetti all'Agenzia delle Entrate Il presunto corruttore Paolo Lavalle Ha parlato al GIP dell'incontro con il dirigente L'altro principale accusato ha scelto Invece di non rispondere il suo legale Siamo sereni Aspettiamo di avere le carte E solo dalla lettura degli atti Sapremo se è un equivoco o un fatto rilevante Ha detto l'avvocato Antonio Di Michele Anche su questo articolo ci fermiamo Per vedere il contributo video di Filippo Tronca Guardi Fino a quando non si leggono tutte le carte Nella loro inderezza Farsi idee sarebbe il più grosso errore Che ci può essere sulla faccia della terra Così Antonio Di Michele Avvocato difensore di Giovanni Imparato Capo del settore legale Di fatto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara Arrestato il 10 maggio Ora ai domiciliari Per un presunto passaggio di mazzette Finalizzata ad ammorbidire un contenzioso fiscale E che oggi è stato ascoltato Nel Tribunale dell'Aquila Dal PM della direzione distrettuale antimafia David Mancini L'attività investigativa Ha interessato l'operato di Imparato Nei suoi vestiti funzionario dell'Agenzia delle Entrate Nei riguardi la Cross Città Mercato Società gravata da un pesante contenzioso tributario Da ben 38 milioni di euro In particolare nella mattinata del 19 aprile scorso Le Fiamme Gialle e Pescaresi Hanno filmato a Roma un incontro tra i due indagati Immortalando la consegna al pubblico funzionario Da parte del commercialista Lavalle Di una busta contenente 15.000 euro Una mazzetta Secondo l'accusa pagata per pilotare A favore del contribuente Il pesante contenzioso E per interrompere l'azione di pignoramento Già intrapresa da Quitalia Sui beni della società Ipotesi del resto rafforzata Da un'intercettazione ambientale In cui Imparato esclama Un milione a me spetta Io semilo sempre E poi raccolgo quando si raccoglie E ancora Sai quanto vale questo scritto che ho fatto io? Sono 38 milioni E un milione spetta a me L'Agenzia delle Entrate ha annunciato Che si costituirà a parte civile A tutela della propria immagine Nell'ipotesi in cui venisse estaurato Il procedimento penale Ancora dal messaggero Unioni civili Pescara anticipa i tempi C'è il primo divorzio Sancita la separazione di una coppia Iscritta al registro Santroni e Di Pietro Noi apripista per la nuova legge E in breve vediamo L'intonaco crollato Di Marco lavori al via All'alberghiero In basso salute Mangiare sano per vivere meglio Domenica arriva il Pasta madre dei In breve ancora solidarietà Serata Ail con Migone Risate e risorse Battaglie Vediamo di Stefano al Consiglio Basta premi di cubatura Prima pagina dedicata all'Aquila Casa dello studente Carcere per tre dei quattro condannati Dopo la sentenza della Cassazione Si attende l'ordine della Procura Generale Per l'ultimo imputato Sebastiani Legali al lavoro Per ottenere la pena alternativa Anche su questo articolo ci fermiamo Per vedere il contributo video La casa dello studente dell'Aquila Era un castello di carte Un edificio pericoloso Ad altissimo rischio Crollo in caso di terremoto Come poi fatalmente avvenuto La notte del 6 aprile 2009 Causando la tragica morte Di otto studenti E nessuno dei professionisti Avvicendati a restaurare L'edificio costruito nel 1965 Ha predisposto interventi Di consolidamento necessari Agito per garantire La sicurezza di chi ci viveva Questi in sintesi Le motivazioni E la sezione penale Della Suprema Corte Che ha confermato Ieri sera a Roma In via definitiva Le quattro condanne A quattro anni di carcere Per Pietro Centofanti Tancredi Rossicone Berardino Pace Tecnici del restauro Alla struttura eseguito nel 2000 E a due anni e sei mesi Per Pietro Sebastiani Tecnico dell'Azù E presidente E la commissione di collaudo I reati sono quelli di omicidio colposo Disastro e lesioni Alla lettura della sentenza Da parte del presidente Del collegio giudicante Rocco Blaiotta Scene di commozione Soprattutto tra i familiari Delle vittime Presenti in aula E fra gli avvocati Di parte civile Ma la sentenza Colto di sorpresa Anche quanti erano convinti Che le tesi della difesa Potessero avere successo Le difese infatti Avevano chiesto Tra le altre cose Di dichiarare il reato estinto Per prescrizione Dal momento che Secondo loro I termini sarebbero scattati Da quando sono avvenuti I lavori contestati Nelle accuse Quindi dal 2000 Passaggio decisivo Alla relazione Del giudice Daniele Cenci Che ha citato ancora una volta Ampi stralci Della relazione tecnica Del perito del GUP La professoressa Gabriela Mulas Il terremoto del 6 aprile Ribadito Cenci Non poteva da solo Costituire La causa del crollo Determinato invece Anche dalle gravi Deficienze strutturali E da plurimi elementi Di appesantimento Dopo i vari interventi Di ristrutturazione Inoltre Gli edifici intorno Non a caso Sono rimasti in piedi E aggiunto Cenci Sarebbe stato sufficiente Leggere anche solo La prima pagina Del progetto del 1965 Per capire che L'edificio Così come era progettato Non poteva garantire La sicurezza Toccanti al termine Dell'udienza Le parole di Lilli Centofanti Che nel crollo Ha perso il fratello Davide Non è morta Andando in guerra Non è questa l'università È morto facendo Il suo dovere E non è giusto E aggiunto Anna Maria Cialente Mamma di Francesco Esposito Altra vittima I nostri ragazzi Non ci sono più Il dolore rimarrà Tutta la vita Non c'è somma Che ce li riporterà a casa Ma almeno Hanno avuto giustizia Ha detto Asciugandosi le lacrime Ancora sulla pagina dedicata Le sinergie Stiamo ancora avanti Chieti Previsti per il Ciappi Papa Non si defilano In vista In vista per i dipendenti Il delitto Il delitto Samira non parla La difesa punta Sulla sua incapacità A Giulianova Quotidiano Arriba il luminare Oggi da Eusebio Come l'ambiente Sapi Con gli europei di calcio Il direttore di Porto Allegro Di Tiglio Lancia il programma Degli eventi Nel mese dei campionati E ancora Vediamo Francavilla La Selle cambia Verso con Sì Per Francavilla Sempre a Francavilla Luciani Il presidente H si dimetta Si infiamma La polemica Sul mare Il sindaco uscente Tuona contro Il consorzio Acquedottistico E di Renzo San Giovanni Teatino Un motoraduno In memoria Di Rossella Di Sabatino A Manopello Il buio Oltre Pelicampano Invito a cena Con delitto E vediamo Ace pagati Fiori e sapori Mostra al via Per tre giorni Al Cuppari Operatori dei rifiuti Senza stipendio Da due mesi Appenne Sei dipendenti Della Sima Non vengono pagati Dallo scorso marzo Il comune assicura Abbiamo regolarmente Versato il canone Alla società E Salle e Morrone Del Sannio Gemelli Grazie al Beato Roberto L'ufficializzazione In consiglio Popoli Si accelera Sul piano Anticalamità Il comune Trasforma E proroga A fine giugno La gara Da 990 mila euro Sempre a Popoli Studenti di Loreto Al centro del lupo Concai e forestale E festa Per il patrono Sempre a Popoli Pagina dedicata A Chieti Anestetizzata E derubata Alla famiglia Del sindaco Lella I malviventi Sono entrati Dal garage Poi hanno forzato La portona D'ingresso Dell'abitazione Il primo cittadino Hanno preso 500 euro Dal comodino Ma non mi sono Accorta di nulla E nel taglio basso Pillington Premi di partecipazione Record Dai 1450 euro Del 2015 Ai 1850 Stabiliti Come tetto massimo Sindacati E lavoratori Soddisfatti Pagina dedicata A Teramo Banca Teramo Stipendi tagliati Senza la riduzione Dell'orario Siglato l'accordo Sulla solidarietà Che evita 25 esuberi Intanto la BCC Di Castiglione E Pianella Festeggia i 60 anni E rende noti I dati eccellenti Di bilancio Savini Resteremo virtuosi La condanna Certificati facili 20 mesi Al funzionario Della ASL E poi Il processo Alla mamma Di Martinsicuro Samira non era in sé Quando ha ucciso Gli psichiatri Disturbo bipolare Non aveva più Autocontrollo Vediamo la pagina Dedicata all'Aquila Dopo la sentenza Della Cassazione Ora il carcere Per pace Centofanti E Rossicone Casa dello studente Prossima tappa L'udienza Per i 10 milioni Di risarcimento Ateneo In basso A fianco dei parenti Delle vittime La rettrice fiducia Nella magistratura E va avanti Il progetto Per una nuova struttura In centro storico In centro storico Pace Ancora uno scandalo Condannato senza colpe Lo sfogo Dell'ingegnere Di Prato La Peligna Sono a posto Con la coscienza Ha detto Dancredi Rossicone Si è chiuso Nel silenzio Difeso Dai compaesani Di Scanno Ed Alfonso Chiedo perdono Per quei ragazzi Il presidente Della regione Sarà mia responsabilità Per il futuro Garantire maggiore Sicurezza Ha dichiarato Ed ora Torniamo Al messaggero Per vedere La pagina Sportiva Bruzzo Sport Che apre con Il calcio di serie B Appunto Zuparicio Pescara Affidati Difensore croato Torna protagonista Stavo giocando male Il mister ha fatto bene A togliermi Stare fuori Mi è servito Mi consideravano Scarso Ma io sono disposto A morire Per aiutare la squadra Niente rivincito E voglio solo La serie A E poi il bomber La padula Sebastiani Non ha fretta Di decidere Maragliulo Invece Virtus Ora non sbagliare I punti restituiti Ci hanno dato Grande entusiasmo Ora tocca a noi Non sottovalutare La Ternana Ha dichiarato E poi il ciclismo Wellens Stacca tutti Nibali Perde Contatto Il belga vince Staccando tutti Sul traguardo Di Roccaraso Il campione d'Italia Attacca per prima Poi va in difficoltà E l'olandese Dumoulin Conferma di avere Una forma eccellente Da battaglia in salita A La Remogna E resta in maglia rosa Vediamo in basso E poi torniamo Sul giro D'Italia Calcio Lega Pro L'Aquila Chirieletti Botta e risposta Sempre Lega Pro Teramo Vivarini Il giorno Della Dio Torniamo quindi Come detto Al ciclismo Per vedere Il contributo Video Ascoltiamo Nel servizio Uno dei Protagonisti Abruzzesi Del giro Damiano Cunego Ancora una volta Noi Nipo Vininfantini Siamo sempre Protagonisti Con delle fughe Da distante Oggi ho toccato Bisolti Quindi ho provato A giocare le sue carte È stato molto bravo Sicuramente Non è facile Vincere una tappa Perché Poi dietro Si sono mossi I big Poi è stata una giornata Di pioggia Di freddo Di vento Quindi Ha osato Ha avuto coraggio Ci vuole anche Un pizzico di fortuna Damiano Per la vostra squadra Comunque è stata una tappa Tutto sommato Positiva Beh Fino ad ora Tutto il giro È stato abbastanza positivo Perché Un giorno Uno Un giorno L'altro Siamo sempre in fuga E poi insomma Già Il terzo giorno Con la maglia blu Finché riesco a tenerla Cerco di tenermela Poi Se qualcuno Di un altro Me la porterà via Dovrò reinventarmi qualcosa Per riprenderla È una lotta Fino Fino all'ultimo giorno Continuiamo così Se anche dopo Sia anche un pizzico di fortuna Una tappa Potrebbe anche arrivare Perché no È una squadra che osa Che ci prova Quindi Ci potrebbe anche stare Damiano Ne parlavamo anche con Bisolti Una grande accoglienza Dell'Abruzzo Alla tappa Alla giro d'Italia La Carovana Rosa Beh Noi siamo una squadra Italo-Giapponese Ma comunque Il General Manager Sciotti È di qui Quindi Nipo Vini-Fantini Qua in Abruzzo Gioca in casa Mattino 6 Termina qui Grazie per l'attenzione Auguro a tutti Una buona giornata Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione